una cosa deve fare la juve una cosa vincere 1 a 0 con tutto quel gioco di merda che c'ha deve vincere 1 a 0 quello che fa fare no no stasera non ha saputo fare neanche quello ha fatto pareggiare il genoa una che se la gioca con noi gli ha fatto fare un punto al genoa la juventus le strisce pedonali gli hanno fatto fare un punto al genoa una cosa sanno fare bene vincere 1 a 0 1 1 oggi non hanno saputo fare neanche quella cosa lì che il gioco che gioco cioè ti vedi queste partite che dici ma perché non sono uscito prima brutte proprio brutte mamma quanto è brutto il gioco della juve gli juventini sono contenti sono contenti quando vincono 1 a 0 così sono contenti solo che non può riuscire sempre non può riuscire sempre ogni tanto ci si ferma ci si ferma davanti a niente perché poi alla fine il genoa che ha fatto l'albitro l'albitro non ha visto un rigore per la juve che quanto una casa e ora non lo dico perché era il genoa l'avversario però signori io mi metto sempre nei panni di subisce no questa ingiustizia fosse capitato a me mi sarei incazzato come una bestia resta il fatto che la juve è davvero una squadraccia una squadraccia che sa vincere solo 1 a 0 e che a volte come stasera non ci riesce ciao